ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video e si purtroppo è un periodo storico diciamo dove molti hanno diciamo la paura insomma giusta e giustificata degli aumenti del costo dell'energia elettrica che ci sono già che aumenteranno che diventeranno improponibili chi lo sa speriamo di no ecco però per ovviare a questo problema stiamo cercando delle soluzioni delle alternative per risparmiare punto primo punto secondo tanti diciamo ce l'hanno non proprio bene con chi ci fornisce questa energia vorrebbero nei loro diciamo ideali diventare completamente indipendenti anche se in italia almeno al nord italia è praticamente impossibile isole sud forse ci possiamo arrivare soprattutto un lato molto importante è che molti hanno paura di eventuali blackout di rimanere senza corrente di rimanere con la corrente limitata la storia dei contatori elettronici che in teoria possono limitare in quel stessi momento insomma senza fare i complotisti eccetera ci sono delle difficoltà da risolvere è un periodo che sono molto richieste e vanno molto sul mercato le power station cosa sono le power station sono delle batterie portatili che in caso di mancanza elettrica ti danno energia sia sotto forma di energia diciamo per caricare i cellulari prese usb 12 volte eccetera e sia energia proprio con le prese per i 230 volt abbiamo già visto degli altri prodotti che abbiamo interfacciato anche all'impianto di casa per diventare quasi indipendenti ma hanno dei costi che magari non per tutti sono proponibili oppure è una soluzione che per molti non è la più idonea quindi inizieremo a trattare anche dei prodotti diversi che ci sono sul mercato un po più piccoli più e la portata anche a livello economico ma che comunque vi potranno dare delle grosse soddisfazioni i marchi diciamo leader mondiali sono due oggi parliamo del marchio ecoflop che sicuramente conoscete perché quando cercate un dispositivo del genere si arriva a questo marchio marchio che è leader non in contrastato ma comunque presente e importante nel mercato delle soluzioni energetiche ha una gamma di dispositivi molto ampia da quelli tanto piccoli a quelli un po più grossi e adesso ha tirato fuori un dispositivo nuovo lui che si chiama delta 2 è un gioiellino tecnologico non costa tantissimo di questo ne parleremo poi alla fine per darvi subito dei numeri ha una potenza in uscita di 1800 watt veri che in una casa se non alimentano tutto poco ci manca e ha un accumulo interno di un kilowatt ora ma è espandibile e questo lo analizziamo meglio dopo un prodotto che sicuramente molti di voi hanno visto è uscito da poco vogliono avere informazioni quindi l'abbiamo preso lo testiamo facciamo un po di prove e poi a fine video traiamo delle conclusioni non vi potrò mai dire esattamente quando prenderlo quando no dipende dalle vostre condizioni perché poi ci sono altri prodotti più grossi e non vi dirò mai se questa marca è la migliore sul mercato o se non lo è e lo è un'altra perché ogni prodotto ha le proprie caratteristiche quindi bisogna tenere conto di tutto e scegliere quello più adatto alle vostre esigenze io faccio semplicemente delle recensioni vi spiego le cose cerco di essere il più obiettivo possibile anche se alcuni giudizi sono soggettivi però cerco di spiegarvi un po bene le cose adesso facciamo finta che lo rimetto nella scatola facciamo lo spacchettamento guardiamo tutto e poi facciamo un po di test di quelli pesanti anche in casa ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su instagram massidattoli perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale perfetto scatola ecoflop che arriva con tutte le segnalazioni del caso essendo un prodotto con una batteria quindi tra virgolette pericoloso per il trasporto sulla scatola abbiamo già l'anteprima del dispositivo diciamo dalla vista laterale facciamo che aprirlo per vederlo veramente parte alta della scatola dove troviamo subito il manuale utente abbondante imballo di protezione di adeguato spessore forma per tenere il nostro dispositivo al sicuro durante il trasporto troviamo una scatola nera opaca tra l'altro molto elegante con questa scritta in basso rilievo che adesso andremo ad aprire verosimilmente conterrà cavi adattatori eccetera e il nostro dispositivo eccolo qui vedete che non è molto grosso si presenta in questo modo è una specie diciamo di di secchiello vedete che riesco ad alzarlo a manovrarlo senza problemi cominciamo da lui cominciamo a analizzare lui e poi vediamo gli accessori tutto il resto sul lato diciamo di sinistra abbiamo solamente il logo una griglia e una ventola per il raffreddamento forzato di tutta l'elettronica questo è il frontale dove abbiamo il display due porte usb tipo a tradizionali e due porte usb versione fast charge 5 volt 2,4 ampere 9 volt 2 ampere e arriva addirittura a 12 volt 1 ampere e mezzo con 18 watt massimi di ricarica qui sotto abbiamo due usb c quindi due da ben 100 watt tutta questa zona diciamo di uscita in dc si comanda con l'accensione di questo pulsante mentre qua abbiamo il pulsante per l'accensione generale del dispositivo sul lato destro abbiamo altre due ventole per la circolazione dell'aria questo sportello invece nasconde la connessione per ampliare l'accumulo per aggiungere altre batterie sul retro abbiamo diciamo tutte le connessioni sia di uscita che di ingresso abbiamo qua le nostre quattro prese sono prese da 16 ampere 250 volt anche se il dispositivo non arriverà a derogare 16 ampere ma sono comunque dell'esciuco versione europea e ce ne sono ben quattro qui sotto abbiamo una zona di uscita a 12 volt vengono comandate da questo pulsante e abbiamo due connettori tradizionali con un classico jack di alimentazione dove abbiamo 3 ampere massimi di supporto sul 12 volt e una presa accendisigari quindi pulsante per la zona 12 pulsante per la zona a 220 volt in ac mentre qui ce lo dice già la figura abbiamo gli ingressi di ricarica abbiamo il solare o autovettura e abbiamo l'ingresso per caricare da rete quindi da una qualsiasi presa di casa vostra o di altri luoghi si apre alzando questo sportello qua c'è la connessione che adesso andremo ad analizzare e l'ingresso per il 230 volt questo qua è una protezione che in caso di superamento della corrente da 20 ampere come carico va diciamo riarmato schiacciando questo bottone guardate la cura dei dettagli tipo la zona di ricarica delimitata da questa linea gialla e nera la qualità anche delle plastiche delle prese dei pulsanti tutti con spia il gommino che è anch'esso di un ottimo materiale insomma sicuramente non è un prodotto chip qui abbiamo una cura per i dettagli e la qualità dei materiali vi faccio ancora vedere la parte inferiore dove abbiamo tutte le caratteristiche numero di serie eccetera ma volevo evidenziare questa parte angolare molto raggede in gomma però molto dura che serve appunto per appoggiarlo in sicurezza spostandolo da una parte all'altra questo è il nostro dispositivo qui sopra non è stata prevista una zona di ricarica wireless eccetera quindi l'abbiamo analizzato lo abbiamo spacchettato vi do dei dati le quattro prese in uscita arrivano a andare fino a 1800 watt con un picco con una tensione diciamo boost momentanea fino a 2700 watt quindi oggetti che devono avere uno spunto come il frigorifero altre cose ce la fanno chiaramente su un dispositivo del genere non attaccateci un compressore industriale una saldatrice cose troppo energivore perché uno non ce la fa e due rischiate di danneggiarlo molto probabile ecco abbiamo visto le porte usb con tutti i loro dati le porte 12 volte che ha sul retro sono da 3 ampere circa 38 40 watt al massimo la porta che abbiamo visto dietro che serve per ricaricarlo da varie fonti tra cui la fonte solare e adesso poi dopo nel video vi farò vedere anche il pannello abbinato che nasce diciamo quasi per lavorare in simbiosi con questo dispositivo come ingresso diciamo solare di pannelli fotovoltaici perché non è che dovete usare per forza solo quello potete usarne anche altri però dovete attenervi ai dati di fabbrica per l'ingresso supporta come tensione da 11 a 60 volte questo cosa vuol dire che sotto gli 11 non parte non si ricarica sopra i 60 va in blocco dovete cercare di stare in un reggio tra questi 11 e 60 volte facendo magari delle serie dei paralleli avevo fatto un video mi raccomando guardatelo le serie paralleli il quadretto coi fusibili molto importante se ad esempio trovate dei pannelli da 24 volt potete tranquillamente metterne in serie 2 se li trovate da 12 volt magari ne potete mettere fino a 5 insomma dovete farvi il calcolo se poi salite troppo di tensione potete fare dei paralleli ma attenzione perché come corrente questo supporta fino a 15 ampere di solito ci fermiamo a 12 questo arriva a 15 come watt reali di produzione di quello che può prendere dei pannelli carica dal solare fino a 500 watt non è espandibile è il massimo che supporta questo dispositivo per caricare un kilowattora di batteria con una produzione di 500 watt ci mettiamo due ore mal contate quindi anche con pannelli più piccoli in qualche oretta riuscite a caricarvelo gratis ma ci sono poi altre modalità che vedremo più avanti tra cui la ricarica da rete ricarica da rete ricarica in modo molto molto veloce lo vedremo quando lo testiamo a 1100 watt a più di un kilowatt ha una funzionalità di ricarica boost che non danneggia la batteria è fatta apposta è stato studiato in questo modo per essere caricato velocemente parliamo di una delle cose più importanti dei dati tecnici la batteria dunque questo dispositivo anche questo dispositivo è stato scelto dal sottoscritto per l'ottima qualità delle batterie monta delle batterie life po 04 che attualmente sono la miglior tecnologia disponibile sul mercato sappiamo che sono batterie che dovrebbero garantire un'efficienza almeno dell'80 per cento in dieci anni e se un kilowattora ritenete che sia poco o magari iniziate con quello e poi pensate che non sia più sufficiente è espandibile non è espandibile all'infinito ma è espandibile fino a 2 kilowattora con la batteria che si chiama delta 2 extra e fino a 3 kilowattora con la batteria che si chiama delta max extra e poi l'abbiamo già visto mentre lo aprivo piccolo è relativamente piccolo misura circa 40 x 30 x 20 non è grosso a queste due comode maniglie e pesa solo 12 kg non è proprio una scatolina di cartone ad alzare però è comodo da prendere si sposta veramente facilmente quindi l'abbiamo spacchettato l'abbiamo visto molto bello e fatto bene la qualità costruttiva c'è su questo non avevo dubbi quello che mi interessava era capire cosa riusciva realmente a fare quindi adesso facciamo un po di prove adesso prima di testarlo prima di fare un po di prove guardiamo gli accessori che vengono forniti a corredo scatola sigillata che va aperta perfetto qui troviamo un connettore jack quello che vi parlavo prima classico 12 volt per alimentare quello che può essere un router delle telecamere i dispositivi quasi come standard a 12 volt hanno sempre questo tipo di jack in ingresso quindi uno lo possiamo connettere al nostro eco flov e l'altro all'utilizzatore questo è il cavo per la ricarica diciamo da autovettura da presa accendisigari cavo di buona fattura di buono spessore non troppo rigido ma neanche troppo morbido che lungo poco più di un metro poi abbiamo il cavo di ricarica da rete domestica da presa ac con la sua spina asciuco da 16 ampere e l'attacco classico come ad esempio hanno i personal computer ora proviamo ad accenderlo e facciamo diciamo amicizia con questo dispositivo teniamo premuto il tasto di accensione vedete che emette un bip qui abbiamo un display abbastanza carino non è un display diciamo grafico non è touch non ha nulla di tutto questo ma semplicemente ci dà le informazioni essenziali quindi lo stato di carica percentuale della batteria che ora appena ricevuto è al 30 per cento abbiamo la stima delle ore di autonomia in base al carico che lui sente in uscita e qui abbiamo invece un display dove ci indica l'ingresso con cui lo stiamo eventualmente ricaricando e l'uscita del carico che andiamo ad alimentare vedete che le uscite in dc adesso sono disalimentate per alimentare basta premere questo pulsante in automatico attiva queste uscite se noi adesso andiamo ad attaccare un carico vedremo che salirà il consumo sul display possiamo quindi provare una usb tipo a normale pixel che va in ricarica ma non in modalità fast perché abbiamo connesso su una porta diciamo di quelle tradizionali ma comunque stiamo caricando a 4 5 watt se proviamo invece a fare una ricarica da una porta usb a 100 watt questo è un cavo particolare che mi dà anche la lettura dell'assorbimento vedete che in questo caso parte una ricarica rapida a 13 watt 14 vedete che pian piano sta salendo il mio pixel non è uno smartphone che ha una ricarica super rapida con questa uscita potremmo ricaricare anche i smartphone di ultimissima generazione che caricano a potenze molto molto elevate sul display avrete notato che in base alla porta che usiamo per connetterci segnala se è occupata o meno quindi potremmo caricare un dispositivo dall'usb c un dispositivo da una usb diversa vedete che segnala sia il disegnino della c che della tipo a e possiamo andare avanti ad attaccare tutto quello che abbiamo bisogno di ricaricare senza problemi vedete che lui in questo caso sta erogando in questo momento con due telefoni due microfoni una gopro 17 watt in uscita ci dice che in questa condizione ad esempio ne abbiamo per 11 ore di autonomia 11 12 ore di autonomia con la batteria che solo al 30 per cento abbiamo ancora una porta libera quindi le possibilità di collegamento per i dispositivi portatili che possono essere anche un portatile qualcosa di più energivoro che si connette direttamente rapporta usb c da 100 watt diciamo sono abbastanza ampie ora che abbiamo più o meno visto diciamo l'interfaccia le modalità di connessione frontale è comunque tutto molto molto semplice anche a livello di display come dicevo prima c'è l'essenziale quello che serve senza troppi fronzoli proviamo ora invece a metterlo in carica attacchiamo il nostro connettore che arriva dalla presa domestica dispositivo che va in carica scattano i relè necessario fra partire la carica vedete che in questo momento sentite sono partite le ventole perché è una ricarica molto molto veloce diciamo aggressiva e fatta apposta non va a nuocere sull'efficienza delle batterie ma diciamo una velocità di ricarica molto molto importante in questo momento sta caricando a 1200 watt siamo al 31 per cento vi faccio vedere senza barare che sono le 11 e 30 controlleremo tra un po' di tempo a che punto è la ricarica la stima ci dice che tra 49 minuti dovrebbe essere al 100 per cento sono le 11 e 46 siamo al 61 per cento sta caricando velocemente le ventole si le sentite fanno veramente casino non si fermano mai perché in questa modalità di ricarica diciamo boost ha bisogno di essere raffreddato il regolatore che gestisce la ricarica del pacco batterie altrimenti andrebbe su di temperatura l'aria esce qui dalla sinistra è abbastanza tiepida entra fresca qui dalla sinistra e lui va avanti a caricare sono le 12 08 siamo già al 91 per cento in questo momento sta caricando a 600 watt mi dice che tra 19 minuti sarebbe carico al 100 per cento ma vedete che siamo già arrivati al 92 le ventole non si sono mai fermate ma la ricarica è veramente veramente velocissima il 12 e 15 siamo arrivati al 96 per cento vedete che adesso sta caricando a 320 watt quindi va a scendere per non arrivare con la massima corrente di ricarica allo stato full della batteria per preservarla diciamo che ci siamo arrivati in tempi brevi molto brevi 12 e 30 non sono più venuto a controllarlo ma avrà finito da un po' me lo dà al cento per cento stacchiamo l'alimentazione chiudiamo lo sportello disattiviamo anche le usb lui è pronto lo spegniamo off lui fa la procedura di arresto adesso andiamo ad attaccare un po' di spine ok dispositivo che comunque con le pratiche maniglie le dimensioni compatte anche se il peso diciamo è molto concentrato perché è molto piccolo si riesce comunque a prendere a trasportare a mettere dove è necessario utilizzarlo e ad esempio in caso di blackout possiamo tranquillamente utilizzarlo per alimentare anche dei dispositivi per esempio nella nostra cucina se siamo senza luce abbiamo bisogno di fare un'operazione al microonde la facciamo senza problemi chiaramente se abbiamo un utilizzatore con una spina italiana da 16 ampere quindi grossa non abbiamo la possibilità di inserirla dietro l'ecoflop perché queste sono tutte sciuco vi occorre un adattatore del genere che da spina asciuco diventa presa italiana magari vi lascio anche dei link lo colleghiamo in una qualsiasi delle quattro prese del nostro ecoflop accendiamo il dispositivo che ora è al cento per cento connettiamo la nostra spina italiana all'adattatore accendiamo l'uscita c perché va sempre accesa manualmente da una conferma sonora e si accende il led qua sul pulsantino che sta ad indicare la presenza della rete del 230 volt il microonde in questo caso si è acceso noi abbiamo la batteria al cento per cento l'uscita c accesa che non si può comandare dal lato anteriore ma solo dal lato posteriore vedremo poi dopo invece tutti i comandi a livello di app nel telefono possiamo quindi prendere quello che dobbiamo fare inserirlo all'interno in questo caso imposto la massima potenza 750 watt e vado a farmi il mio ciclo di due minuti perché non parte e qui ho rilevato un problema in quanto il microonde non partiva ragionando sul cosa potesse essere e mi sono accorto che il delta 2 è impostato di fabbrica a 60 hertz noi dobbiamo andare a correggere questa frequenza di uscita della tensione 230 volte perché dobbiamo utilizzare i 50 hertz altrimenti come in questo caso il microonde non funziona a questo punto diventa importante utilizzare subito l'applicazione cercandola sullo store quella che vi faccio vedere ecoflop la installiamo e la apriamo diamo tutti i consensi del caso e dobbiamo per forza di cose creare un nuovo account arrivati a questo punto nell'app ecoflop basta semplicemente scegliere aggiungi dispositivo lui trova subito un dispositivo delta 2 clicchiamo sopra e parte la procedura di accoppiamento il dispositivo delta 2 si connetterà al vostro wifi domestico se presente la nostra rete che deve essere a 2,4 gigahertz fate attenzione perché i router moderni tante volte hanno solo il 5 gigahertz o il 6 gigahertz attivo dovete avere attivo anche il 2.4 cerchiamo il nostro wifi mettiamo le password del caso e andiamo avanti delta 2 fa la configurazione internet che viene riconosciuto diciamo a livello di bluetooth col telefono ma poi nella realtà dei fatti lui si connette alla vostra rete wifi se ce l'avete altrimenti potete lavorare diciamo in locale con il bluetooth senza avere una connessione wifi la connessione wifi che ha magari un consumo energetico per il dispositivo vi aiuterà però a tenerlo sotto controllo anche da remoto in questo momento vedete che abbiamo sull'app quindi in tempo reale la condizione d'uso del nostro dispositivo il dispositivo che al 100% vedete app molto semplice carina anche graficamente non abbiamo ingresso non abbiamo uscita tasto in alto a destra impostazioni abbiamo la possibilità di rinominare di attivare i segnali acustici di modificare la potenza di ricarica da rete se 1200 watt è troppo possiamo caricarlo anche con molto o meno spostando semplicemente questo slide ingresso auto possiamo scegliere se caricare a 4 6 o 8 ampere accensione o spegnimento automatico se abbiamo uno smart generator che è un altro dispositivo di ecoflop che è praticamente il generatore diciamo però in versione smart potrebbe lavorare diciamo in simbiosi con il nostro delta 2 per farlo partire automaticamente quando la batteria all'accumulo scende sotto una percentuale quindi una funzione smart molto molto interessante purtroppo non ho anche il generatore per fare questa prova uscita x boost è quella che serve per attivare diciamo la massima potenza di spunto livello di carica scarica adesso impostato da 0 a 100% possiamo modificarlo quindi farlo caricare meno o scaricare meno per preservare magari la batteria ma in teoria gestisce tutto da solo o più che altro per non rischiare di averlo completamente scarico se abbiamo qualcosa di più importante in caso di necessità da alimentare time out dell'unità 2 ore time out schermo 5 minuti time out del ca quindi dell'uscita alternata 12 ore time out dell'uscita dc 12 ore unità di temperatura gradi centigradi specifiche ci porta alle caratteristiche del dispositivo dove ci ricorda tutti i dati di ricarica di ingressi uscite eccetera che è una cosa molto comoda tutti i dati della batteria supplementare insomma niente male abbiamo poi la possibilità di aggiornare il firmware vedete che ci notifica la presenza di una versione 10048 mentre lui è arrivato con la versione 1001 questa cosa facciamo che farla per non incampare magari in qualche bug di funzionamento lanciamo l'aggiornamento aspettiamo un attimino e riprendiamo a fare tutte le prove notate che in fase di aggiornamento vedete che sul display va tutto a zero e c'è questa rotellina azzurra che gira con scritto app vuol dire che sta caricando fa tutto da solo non ci preoccupiamo di nulla aspettiamo solo che finisca aggiornamento riuscito siamo all'ultima versione e dopo la 10048 ci notifica la 10048 tra parentesi 4 facciamo anche questa non ci sono altri aggiornamenti firmware quindi io adesso farei una bella cosa uscirei dal dispositivo vedete che già nell'anteprima della home nell'applicazione avete la possibilità di avere vari dispositivi e nella prima anteprima vi dà già la possibilità di controllare lo stato della batteria sotto abbiamo un tasto che serve anche per intraprendere una un contatto diretto con l'assistenza all'interno dell'app che questa cosa non è mica male rientriamo nel dispositivo sempre al 100% sempre tutto uguale io volevo capire come fare per cambiare l'impostazione degli hertz ma non la trovo vado a riaccendere ora che si è aggiornato l'uscita ca ok quindi probabilmente l'aggiornamento firmware serviva proprio per risolvere un problema tipo questo perché adesso se notate l'uscita è diventata 50 hertz già che siamo nell'app finiamo di vedere insomma le funzioni principali se clicchiamo sopra il tempo disponibile ci dà lo stato della batteria e anche la temperatura che in questo caso la temperatura interna segnala 36 gradi in ingresso non abbiamo nulla in uscita non abbiamo nulla facciamo che lasciare anche l'app attiva così adesso riprendiamo le nostre prove e vediamo come si comporta sia a livello di display che di applicazione uscita attivata dovremmo riuscire adesso a far partire il nostro microonde alla massima potenza 750 watt impostiamo sempre due minuti di funzionamento e ora funziona perfettamente sull'ecoflop mi segna un assorbimento di 1350 watt sentite che ahimè anche in fase di erogazione potenza partono le ventole sono partite prima un po più basse adesso sono a diciamo a manetta stiamo tirando 1350 watt senza problemi sull'applicazione se andiamo in uscita vedete che ci dà la possibilità di controllare intanto l'uscita se attivarla o non attivarla e sempre dalle attivazioni possiamo gestire ovviamente il 12 volt che è l'uscita posteriore e tutta la parte della dc frontale mentre ho l'uscita ci attiva posso attivare le uscite anteriori delle usb e posteriori del 12 volt indifferentemente risponde anche in tempo veloce non è niente niente male ora facciamo una cosa stacco il wifi del telefono in modo da rimanere connesso come se fossi in esterno usciamo proprio dall'applicazione io adesso sono connesso in 4g vediamo sempre il nostro delta 2 in questo caso stiamo simulando una condizione da remoto da fuori casa o da fuori luogo dove lui è connesso al wifi vediamo tutto in tempo reale l'uscita da 1.34 kilowatt lui va senza problemi aspettiamo che finisca il ciclo il nostro ciclo del microonde è finito vedete che i consumi scendono subito e automaticamente scende anche alla velocità delle ventole qui abbiamo la nostra tazza fumante e noi in condizioni di mancanza di fornitura simulata riusciamo ad alimentare tranquillamente un microonde da 750 watt tirando poco più di un kilowatt senza nessun problema ok riusciamo ovviamente ad alimentare in caso di emergenza anche un frigorifero che ad esempio in questo momento sta consumando 120 watt 118 con questo tipo di consumo le ventole del delta 2 continuano comunque a girare perché lui sta erogando potenza e necessita di raffreddamento frigo che in questo momento è acceso perché alimentato dall'eco flow ovviamente se lo spengo automaticamente si spegne anche il frigo con il frigo aperto tutto spento se lo facciamo partire dovremmo avere uno spunto importante vediamo come si comporta riaccendiamo l'uscita riparto il frigo abbiamo un consumo di 700 watt per lo spunto che riesce a gestire chiaramente senza problemi possiamo chiaramente alimentare ad esempio anche una tostiera quindi spin asciugo senza problemi la inseriamo nel nostro eco flow questo è un tipo di piastra diciamo che parte in automatico vedete che stiamo tirando 743 watt è una piastra da 750 senza problemi possiamo tostare quello di cui abbiamo bisogno con un consumo del genere di 750 watt e la batteria in questo momento al 65 per cento ci dà una stima di autonomia di 47 minuti ok diciamo che siamo riusciti a tostare il nostro pane siamo arrivati al 61 per cento di autonomia in questo caso segna 0 watt di consumo perché è una fase in cui la piastra non sta riscaldando noi arrivati a questo punto possiamo spegnere l'eco flow si spegne la piastra e lui fa la procedura di arresto test un po più impegnativo quindi la lavatrice da attaccare direttamente al nostro delta 2 lavatrice che vedete è spenta non è che devo fare i magheggi comodo da trasportare per una donna in bagno sì certo non pesa un chilo e mezzo pesa qualcosa di più ma avete visto che comunque si riesce a prendere portare un po dappertutto quindi assenza di rete oppure voler risparmiare su un ciclo di lavatrice in questo momento il dispositivo è al 95 per cento di carica colleghiamo l'asciugo perché in questo caso abbiamo direttamente l'asciugo siamo sempre a 50 hertz tutto ok ho giusto le scarpe antifortunistiche da lavare non ho idea se sia consigliabile fare quello che sto facendo spero che mia moglie non guardi questo video le ficco dentro ho già messo prima un po di liquido blu ho trovato qualcosa che sembrava un detersivo allora facciamo un qualcosa di rapido giusto per capire quanto consuma a livello di batteria un ciclo lo facciamo a 40 gradi con quantità minore senza centrifuga quindi un ciclo da 14 minuti lo facciamo partire teniamo monitorato l'assorbimento e vediamo cosa succede ok ora siamo a 30 watt ok la lavatrice sta semplicemente caricando l'acqua in questo caso per tenere sotto controllo il consumo e tutto intanto guardate siamo a 1800 watt e la lavatrice sta iniziando a scaldare l'acqua sta girando il cestello sono partite le ventole ma come vi dicevo voglio entrare un attimo nelle impostazioni e disattivare lo spegnimento dello schermo quindi temporaneamente gli dico che lo schermo non deve spegnersi mai perché voglio tenere questo ciclo sotto controllo vedete che con questo consumo di 1800 watt il display stima un'autonomia restante di 26 minuti siamo arrivati già al 91 per cento ma noi lasciamolo andare siamo all'87 per cento mancano 10 minuti lui va senza problemi tra virgolette l'unica pecca che ho trovato fino adesso di questo dispositivo è il fatto che le ventole siano molto molto rumorose insomma comprendiamo anche che essendo così compatto e riuscendo comunque a derogare potenze del genere è necessario per forza un riscaldamento forzato se gli ingegneri tecnici che l'hanno sviluppato l'hanno ritenuto necessario per evitare il surriscaldamento dobbiamo prenderlo come un vantaggio e non come uno svantaggio per il fatto che sia rumoroso le ventole tra l'altro sono anche piccoline in relazione a tutto l'oggetto quindi per forza di cose tendono anche essere più rumorose 9 minuti siamo a 1790 watt la lavatrice va avanti lui si sta scaricando progressivamente ma il nostro ciclo lo stiamo facendo e siamo a fine ciclo mancano quattro minuti i consumi sono scesi molto perché sta girando solo il cestello siamo a 40 watt di assorbimento le ventole si sono arrestate perché non sta più sforzando non sta più scaldando e siamo al 68 per cento lasciamola finire e alla fine vediamo dove siamo arrivati bene siamo arrivati a fine ciclo lui è ancora il 68 per cento le scarpe in qualche modo le ho lavate ma credo di aver commesso qualche errore ma questo è un altro discorso quindi in situazioni di emergenza riusciamo anche ad usare una lavatrice delta 2 che racconta anche di un dispositivo molto molto mobile quindi con la connessione all'accendisigari della vostra auto e ricarica che è in viaggio si stabilizza sui 110 watt circa ma vediamo che intanto riusciamo ad entrare nell'applicazione collegandoci direttamente col bluetooth vedete che si illumina il led del pairing e la connessione bluetooth sul telefono questo perché come vi dicevo all'inizio in modalità di connessione senza wifi riuscite comunque a collegarvi direttamente col telefono al delta 2 anche senza un router wifi o comunque una connessione riusciamo comunque a monitorare ad applicazione il comportamento del dispositivo riusciamo a fare tutte le modifiche delle impostazioni se ad esempio andiamo in ingresso auto da 8 ampere lo spostiamo a 4 ampere lui prende il comando e vedete che la ricarica dai 110 watt circa che avevamo prima si attesta esattamente alla metà quindi siamo sui 55 56 watt chiaramente impostato a 4 ampere in questo caso ci dice che che ci vorrebbero 6 ore di viaggio per ricaricarlo al 100 per cento se rimettiamo la modalità 8 ampere lui si stabilizza di nuovo su circa 110 watt e le ore di ricarica per arrivare al 100 per cento in questo caso diventano 3 delta 2 che ovviamente essendo una soluzione molto piccola e molto portatile non trova che locazione ideale anche l'utilizzo in camper quindi campeggio ma anche in tenda chiaramente non è un dispositivo fatto per stare alla pioggia da ricaricare magari in viaggio mentre vi spostate da un posto all'altro con un camper per fare libera se avete un camper magari che non è indipendente a livello di fotovoltaico accumuli eccetera avere un dispositivo del genere dietro vi garantisce comunque un'autonomia discreta per utilizzi che possono essere il cucinare o fare qualche operazione che richiede corrente a 230 volte e ovviamente diventa un gigantesco power bank per tutto quello che riguarda le connessioni usb e la ricarica dei dispositivi mobili nulla vieta ovviamente di attaccare una spina con una presa ce direttamente all'attacco del 230 del vostro camper per alimentare tutta la cellula che a livello di 230 volt su un camper abbiamo dei consumi che sono almeno nel mio relativamente bassi quindi anche solo con un kilowatt di accumulo riusciamo a garantire il funzionamento di diverse cose come possono essere una televisione magari un decoder un'antenna che funziona a 220 il caricabatterie dell'aspirapolvere che vi portate da casa magari il dyson insomma tutta una serie di cose per le quali avete assolutamente bisogno del 230 volt e magari oltre a non avere l'accumulo o un fotovoltaico sul camper ovviamente non avete neanche un inverter che vi permette di prendere il 12 volt della cellula e trasformarlo in 230 ecoflop che oltre tutta la gamma diciamo di power station di accumuli portatili vuol dire anche pannelli portatili in questo caso vi faccio vedere il modello diciamo top di gamma che il 400 watt esistono anche poi da 220 da 160 o da 110 watt ma per caricare il nostro dispositivo vedremo che questo diciamo è l'accoppiata tra virgolette perfetta concepita da ecoflop per ricaricarlo in mobilità ma perché no anche a casa ora guardiamo questo pannello com'è fatto lo analizziamo e poi proviamo ovviamente a collegarlo per caricare il nostro ecoflop delta 2 imballo molto particolare dopo aver tolto diciamo il coperchio abbiamo questa parte a protezione quindi tutta una struttura in cartone rigido perimetrale che protegge il nostro pannello portatile parte inferiore protetta da un materiale contro gli urti per non danneggiare la superficie vetrata questo è il retro della nostra diciamo valigia con maniglioni grossi diciamo per trasporto a tracolla e anche maniglie più corte per prenderlo diciamo con le mani pannello che si trasporta abbastanza agevolmente vi ricordo che comunque ha un peso di 16 kg la valigia diciamo tutta chiusa misura 106 per 65 in questo tessuto grigio che è anche molto molto carino la tracolla è dotata anche di spugna per proteggere diciamo un po la spalla tutta la parte della cerniera è realizzata su una struttura in gomma molto robusta proviamo ad aprirlo apertura che va fatta diciamo in verticale qui possiamo estrarre il nostro pannello in questo modo è una volta liberato dalla custodia abbiamo qui due protezioni per i cablaggi che vengono dati in dotazione questi li analizzeremo meglio dopo pannello che si apre in questo modo troviamo ancora una protezione all'interno e qui abbiamo i quattro elementi monocristallini completamente aperti come potete notare la struttura è provvista di occhielli lungo tutto il perimetro per eventualmente appenderlo o metterlo in sicurezza ancorarlo a qualsiasi tipo di struttura fissa o improvvisata che possiamo trovare o realizzare ok pannello che va praticamente completamente estratto dalla sua valigia una volta tirato fuori il pannello aperto in tutta la sua lunghezza si presenta in questo modo lungo 236 alto 106 come la borsa è fatto in un modo molto molto particolare molto robusto è abbastanza rigido non è molto flessibile quindi bisogna fare attenzione nelle manovre di apertura nelle manovre di posizionamento perché una torsione su se stesso troppo importante potrebbe diventare dannosa qui sulla parte destra nel mio caso abbiamo i connettori di uscita connettori che sono lunghi circa un metro e venti abbiamo chiaramente positivo e negativo oltre che dalla forma del connettore dove il maschio è positivo e c'è scritto anche sulla plastica del connettore abbiamo due bandierine che ci aiutano a riconoscerli di tipo mc4 quindi standard poi dopo viene fornito insieme al pannello questo cavo adattatore lungo circa due metri e mezzo a cosa serve questo cavo serve a trasformare le connessioni mc4 standard nel connettore per andare all'ingresso del nostro delta 2 volevo farvi vedere un dettaglio dei connettori sia del pannello che del cavetto in dotazione perché una volta agganciati sul connettore negativo c'è questa questo sistema a molla fatto apposta per sganciarli cioè guardate che roba esce da solo stessa cosa di qua hanno la sicurezza dell'aggancio che non possono essere staccati ma finalmente e vi dicono visti tanti e connettore in vita mia solo questi dell'eco flow hanno sul negativo questo sistema di sgancio pazzesco dovrebbero metterli ovunque cavo che lungo circa due metri e mezzo quindi una volta connessi i connettori mc4 abbiamo una lunghezza totale dei cavi che dal pannello possono andare alla nostra stazione di ricarica di circa tre metri e mezzo poi ovviamente abbiamo i connettori mc4 noi possiamo acquistare separatamente delle prolunghe classiche maschio femmina che vi prolungano esattamente questi due cavi della misura che serve vi lascerò poi dei link anche di prodotti che vendono su amazon ci sono prolunghe da 1 2 3 5 arrivano anche a 20 metri nel peggiore dei casi potete costruire su misura comprando una matassa di cavo e usando la pinza coi connettori che vi avevo fatto vedere nel video del fotovoltaico a parete ho l'impressione che sia un pannello molto performante e soprattutto di qualità molto molto alta non vi ho fatto vedere bene il retro che è fatto dello stesso tessuto che abbiamo sulla valigia alle intemperie sì però diciamo che alla lunga questo tessuto potrebbe leggermente patire connessione posteriore ingresso fotovoltaico stiamo caricando a 222 watt con questo battaggio dice che in un'ora circa al 60 per cento sarà carico siamo collegati sui pannelli che tramite la borsa in dotazione usando queste fettucce qui e delle fascette che non sono in dotazione permettono di creare una specie di supporto per dare un'angolazione il sole c'è ma è abbastanza nuvoloso abbiamo una produzione che non è proprio il massimo però iniziamo a tirare fuori più di 200 watt ok giornata di sole pieno un po meglio i pannelli li ho posizionati qua sopra con un'angolazione leggermente migliore in questo momento vedete sta caricando a 240 watt di input ne sta tirando fuori 100 e qualcosa perché sto alimentando il garage in questo momento ma sta comunque caricando e mi dice che con questo consumo e questa produzione fra tre ore sarebbe comunque carico perché la produzione è superiore all'assorbimento quando ho fatto la misurazione massima non era ombreggiato era tutto al sole questo pannello purtroppo in questo periodo non sono riuscito a testarlo per vedere a quanto può realmente arrivare però è un pannello di ottima fattura come tecnologia è un monocristallino è un pannello da 10 ampere tira fuori 48 volt insomma i dati di targa ci sono non sono riuscito a spremerlo proprio con un bel sole di luglio di giugno ma so che questi pannelli rendono molto molto bene questo non vuol dire però che siano l'unica soluzione come vi ho detto a inizio video per i dati di che accetta il dispositivo potete tranquillamente usare degli altri pannelli anche perché questo pannello costa 1.100 euro è un costo importante ha senso quando ha senso quando sicuramente lo dovete caricare in mobilità quindi va spostato di frequente ha senso quando purtroppo tanti miei clienti conoscenti molti di voi mi dicono che i condomini ad esempio non gli danno il permesso di mettere dei pannelli diciamo fissi e quindi l'unica soluzione che vi rimane purtroppo spendendo un po di più e magari avendo un po di meno è comprare pannelli di questo tipo perché le appendete con due fascette la sera li tirate dentro ogni tanto magari lasciate anche di notte insomma ve la potete gestire però non sono fissi è una cosa appesa lì magari messa addirittura all'interno del balcone magari appesa al muro con due tasselli insomma ci sono varie soluzioni per non metterlo fisso perché l'installazione fissa potrebbe essere problematica per attaccarlo però ad altri pannelli fotovoltaici avete visto che con il pannello diciamo quello portatile davano insieme quell'adattatore quel cavetto che trasforma dai connettori diciamo mc4 quelli standard che hanno tutti i pannelli al connettore che entra nell'eco flow quel cavetto lo danno coi pannelli se voi comprate solo la station diciamo e volete usare altri pannelli quel cavetto è comunque vendita sul sito costa 29 euro quindi non è in dotazione però si trova senza problemi volevo fare adesso una prova di autoscarica quindi macchina al 69 per cento oggi è venerdì 14 ottobre alle 18 e 35 volevo spegnerla macchina spenta dispositivo disconnesso quindi macchina realmente spenta volevo vedere tra qualche giorno se effettivamente tiene la carica o se c'è una percentuale di autoscarica importante lunedì 17 ottobre sono passati solo tre giorni vediamo se è successo qualcosa macchina al 69 per cento giuro non l'ho toccata non l'ho caricata adesso si sta riconnettendo almeno in diciamo tre giorni non ha perso nulla non ho avuto il tempo di fare un test più lungo ma verosimilmente a macchina spenta dovrebbe esserci un consumo prossimo allo zero bene siamo a fine video abbiamo visto il prodotto è un gioiellino bello bello perché poi a me queste cose sono come i giocattoli per i bambini quando le prendo le provo e vedo che funzionano bene perché funziona bene questo qua mi piace pensare che una cosa così piccola vi può comunque dare un minimo di indipendenza perché di fatto ve la dà è chiaro che non potete avere chissà quali pretese ma è anche vero che se andiamo ad espanderlo fino a 3 kilowatt allora il discorso già cambia spendiamo certo molto di più però quando ne abbiamo bisogno se abbiamo bisogno di spostarlo frequentemente o di tirarlo fuori solo ne abbiamo bisogno tra l'altro abbiamo visto che tenendolo fermo praticamente non si scarica diventa allora versatile per molti di voi perché lo dico per molti perché costa 1200 euro non sono bazzecole non sono due trecento euro però non sono neanche i costi che hanno i suoi fratelli maggiori o altri dispositivi che costano molto di più dipende sempre da cosa ne volete fare o da cosa potete fare l'acquisto 1200 euro per un prodotto che ha comunque un accumulo da un kilowatt che riesce ad alimentarvi praticamente qualsiasi cosa a livello domestico e qui apre una parentesi perché dopo nei giorni seguenti ho fatto altre prove ho provato alimentare intere sezioni dell'impianto di casa mia per capire e ho notato due ad esempio incompatibilità il dispositivo ps che alimenta il mio pc principale qua sotto è un dispositivo della legrand bello grosso non so perché ma quando alimento con il delta 2 non sente la rete continua a bippare come se non arrivasse stesso problema ho avuto ad esempio con il nas quindi con nas che mi sono autocostruito con un alimentatore da pc continuava a riavviarsi non è possibile fare 50 milioni di prove per provarlo con tutti i dispositivi nessun problema sulle luci nessun problema con i led è andato tutto abbastanza bene ho notato queste due piccole incompatibilità non ho avuto modo di testarlo purtroppo con la caldaia e sarebbe magari una prova interessante da fare vediamo se poi avrò tempo di farla magari vi aggiornerò nei commenti secondo me è un investimento da non sottovalutare soprattutto per chi ha bisogno in caso di emergenza di avere comunque corrente per dispositivi che possono essere più basi rari ma possono essere anche molto importanti perché ahimè purtroppo ci sono persone che hanno problemi di salute che hanno bisogno di dispositivi alimentati a corrente sempre anche se si guasta la rete o se succedesse chissà cosa si ricarica anche col fotovoltaico alla peggio se proprio c'è bisogno e siamo rimasti senza corrente mesi perché chissà quale catastrofe è successa accendiamo il motore della macchina e lo carichiamo con l'ingresso dc non si caricherà probabilmente ma non ho verificato col generatore la benzina o meglio si potrebbe ma purtroppo il generatore benzina inverter escono con fase fase adesso non entro troppo nel tecnico però non piace di solito questo tipo di ricarica alle power station è una cosa può avviare con un trasformatore di isolamento probabilmente farò un video di questa cosa perché è un tema sentito molti ok adesso facciamo un po di prove con le power station visto che ce l'ho facciamo anche la prova con l'eco flow delta 2 ok sta caricando 1200 watt senza problemi bello perché carino bello perché non è troppo grosso bello perché lo mettete dove volete e soprattutto funziona bene parlavamo di espansioni quanto costa espanderlo dunque 1200 euro costa con un kilowattora se lo prendete con la seconda batteria aggiuntiva da un altro kilowattora quindi due kilowattora in totale costa 800 euro in più lo prendete con 2000 euro arrivare ad ampliarlo fino a 3 kilowatt vi costa circa 3800 euro e allora lì secondo me non ha più tanto senso così com'è un kilowatt ha molto senso se proprio volete arrivare a due iniziamo però già a essere limitati come potenza in uscita quindi magari ci sono anche nella loro gamma prodotti più performanti secondo me la condizione migliore comprarlo e usarlo e accontentarsi o diciamo soddisfare il proprio bisogno così com'è con un kilowatt 1200 euro ci sta funziona bene ve lo consiglio non lo so come vi ho detto prima dipende dalle vostre esigenze io ve l'ho fatto vedere vi ho fatto vedere come funziona tutti i suoi pregi un grosso difetto che purtroppo c'è ve lo devo dire e sono le ventole quindi quando lavora lui fa rumore se dovete metterlo nella camera da letto perché la con la notte siete senza corrente verosimilmente passerete la notte in bianco magari a fare altro spero che il video vi sia piaciuto vi lascio tutti i link in descrizione dove trovarlo sito ufficiale amazon lo trovate un po dappertutto se il video vi è piaciuto un bel like soprattutto ve l'ho detto a inizio video con quel piccolo inserimento che metto sempre ve lo chiedo anche adesso se volete supportarmi vedere altri video come questi perché il materiale costa tutte le cose insomma non sto a spiegarvi tutto se cliccate iscriviti qua sotto che è gratis mi fareste un grosso favore a quest'ora avremmo passato i 100.000 iscritti però purtroppo non tutti sono propensi a schiacciare quel tasto gratuito grazie ci vediamo al prossimo video alla prossima diretta del giovedì sera ciao da massi dattoli